Si può definire un messaggio e un invito insieme? Non ci sarebbe stato bisogno di questa lettera, visto che nella precedente avevamo preso un impegno come diocesi triennale, ma è necessaria, è necessaria per approfondire in modo divulgativo, se posso usare questo termine, ciò che il Papa ha voluto dirci con l'anno della misericordia. E allora sono quattro passi. Il mio riferimento fondamentale nella Magistero, nella Catechesi, sono le virtù teologali, fede, speranza e carità. La fede, ci crediamo che Dio ci perdona sempre, è sempre disposto al perdono, che è Lui che prende l'iniziativa, dobbiamo solo sentire il moto della nostra coscienza davanti al male o oppure ad una opposizione, a un torto subito o a un torto fatto. E allora se c'è fede io credo che Dio mi perdona. Ultimo passo, siamo disposti a fare questo percorso, a metterci in gioco, ecco il senso del pellegrinaggio, il senso della lezione divina, il senso poi fondamentale non solo di attraversare la Porta Santa, ma di far seguire a questo gesto un'opera di misericordia, concreta. Oggi più che pellegrinaggio dobbiamo parlare dei migranti, eccetera. Ecco come l'anno della misericordia si concretizza e diventa un invito. Ci siamo o vogliamo fare solo delle belle celebrazioni dove tutti siamo contenti di aver fatto un altro segno di croce, aver sentito un'altra predica e basta. E molto di più perché la nostra vita nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, è veramente in gioco. Prima ancora di leggere la lettera pastorale del Vescovo, questo documento è ancora più importante perché ci porta alla radice della nostra fede, ad una visione che probabilmente spesso abbiamo dimenticato confondendo o il perdonismo o quel senso di giustizia nel non perdonare, insomma tante motivazioni. La Chiesa, o meglio Gesù, volto misericordioso del Padre, ci ha dimostrato come il suo amore è andato nei confronti di tutti e ci dice diventate misericordiosi come il Padre. La Chiesa, o meglio Gesù, volto misericordioso del Padre.